Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Continuiamo quella che abbiamo già inaugurato sotto il titolo Palermo verso il suo futuro, il giro con gli assessori comunali della giunta di Roberto Lagalla, dai quali ci facciamo spiegare un po' quella che è la visione della città, di questa nuova giunta che ormai da qualche mese ha preso possesso della città, dell'amministrazione della città, non della città in senso materiale. Ci facciamo spiegare appunto qual è la visione della città per domani, per il medio e il lungo termine, perché per risolvere i problemi di Palermo bisogna pensare anche al medio e a lungo termine. Il nostro gradito ospite oggi è l'assessore Dario Falzone, assessore al personale e al decentramento, grazie per essere qui. Grazie a voi e come sempre in queste occasioni quando parliamo di comune, alla mia sinistra Pietro Minardi, il collega che segue la cronaca comunale e racconta un po' quello che va e quel tanto che non va nella città di Palermo. Pietro, buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti voi. E allora, assessore Falzone, cominciamo subito da quello che è il problema dei problemi, essendo lei assessore al personale, il primo tema è proprio quello del personale. Avete trovato un'amministrazione con il personale ridotto a Lumicino, già la precedente amministrazione parlava di impossibilità a tenere in piedi tutti i servizi per mancanza di personale, per carenza di personale. La maggior parte di questo personale che c'è non è neanche a tempo pieno. Come state pensando di intervenire? È veramente così disastrosa la situazione? Grazie, Mario. La situazione certamente non allegra. Io ho avuto un'esperienza passata, come voi sapete, da vice sindaco, passata amministrazione camarata, e la situazione del personale non era quella che ho trovato ora dopo tanti anni. È una situazione dove il personale è certamente ridotto, dove il personale, diciamo il comune, si regge fondamentalmente sul lavoro encomiabile, devo dire, da parte di molti ragazzi, molta gente che forse allora era ragazzo, ma che è attualmente ancora in part time. E quindi abbiamo tante persone che contribuiscono alla macchina del comune con le proprie risorse, ma lavorando chi 13, chi 20, 25, chi 23 ore. Quindi è una situazione, ecco, una macchina che va non a pieno regime, ma con dei problemi naturalmente di gestione. L'iniziativa, l'attività che stiamo facendo in queste ore, in questi giorni, è quella naturalmente di cercare di migliorare, di riarmonizzare un pochettino la macchina amministrativa del comune. E poi naturalmente uno dei primi impegni di questa amministrazione è quella di cercare di arrivare al trattamento di questo personale, quindi aumentando anche le ore di servizio, e quindi con un incremento di ore che in prospettiva speriamo a breve di poter portare al full time. Ecco, tentando di spiegare un po' a chi ci segue che cosa vuol dire armonizzare l'armonizzazione, cosa state facendo di fatto in poche parole? Stiamo cercando di sfruttare le risorse che oggi abbiamo, che come dicevo non è una macchina che va a pieno regime, che va come dovrebbe andare, cercando attualmente di riorganizzare gli uffici, l'iniziativa del sindaco alla Galla è quella appunto di riarmonizzare, ridistribuire, ridisegnare la macchina comunale. Quindi mi permetto, spostare del personale da qui a lì, organizzare strutture? Spostare, cercare anche di, se è possibile, di semplificare le attività che questo personale deve svolgere. Se io posso semplificare una procedura, un percorso per esempio il cambio di residenza, e quindi agevolare, velocizzare questa attività, questo naturalmente ne risente anche il funzionamento di tutta la macchina, almeno per quanto riguarda quel comparto. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare. L'unio prossimo abbiamo una riunione appunto con gli ufficiali di Anagrafe, per cercare di trovare una procedura, sfruttando naturalmente le norme che la legge ci dà, ci impone, per poter agevolare e velocizzare procedure che fino ad ora sono state farroginose, che quindi possono essere anche semplificate. Per migliorare la situazione del personale sarebbero necessarie delle assunzioni, oltre che portare a full time o quantomeno aumentare le ore di chi c'è. E state già pensando, visto oltretutto le ristrettezze economiche in cui notoriamente il Comune di Palermo si ritrova, a come poter fare una procedura che porti nuovo personale e che quindi permetta di svolgere i servizi in maniera più efficace? Perfetto, io ricordo che il Comune di Palermo ha un piano di riequilibrio, è una situazione patrimoniale non indifferente, non è utile, se possiamo dire, abbiamo appunto il rendiconto recentemente con 515 milioni di deficit, quindi diciamo è una situazione particolare. Il piano di riequilibrio ci impone alcuni paletti, stiamo cercando naturalmente di utilizzare fondi non comunali, faccio un esempio che a settembre scorso, e ora prossimamente ci sarà un'altra delibera, è stata provata una delibera per il fabbisogno del personale, utilizzando fondi ad esempio del REACT, sono 5 milioni, che ci permetterà di poter assumere per un periodo di 15 mesi, fondamentalmente di 11 dirigenti e altri funzionari che verranno presi presumibilmente dalla graduatoria regionale, avendo noi una graduatoria attualmente in uso, e quindi cercare appunto di agevolare, di far entrare nuova linfa vitale negli uffici, giovani anche che devono formarsi, professionisti laureati naturalmente, che cercheranno di dare un contributo a questa macchina amministrativa. Stiamo utilizzando anche fondi della solidarietà, fondi che sono strettamente collegati alle attività sociali, per assumere assistenti sociali, contabili, tutta una serie di figure che sono finanziabili, con fondi non strettamente legate al Comune di Palermo. Quindi adesso passo a Pietro la parola, perché abbiamo detto personale decentramento, c'è un argomento di cui ci stiamo occupando in queste ore, che è un po' a cavallo tra il personale e il decentramento, che riguarda una postazione decentrata, ad esempio Pietro se vogliamo intanto, forse mandiamo prima un contributo, accennaci di cosa stiamo parlando, mentre la regia prepara il contributo, poi vedremo il contributo e poi facciamo la domanda. Accennaci a questa vicenda. Abbiamo un po' affrontato quelle che sono le difficoltà di alcune periferie di Palermo, nel richiedere alcuni documenti essenziali, come per esempio le carte d'identità, quindi è un discorso che riguarda principalmente le postazioni decentrate. In settima circoscrizione, per esempio, ne è rimasta soltanto una, quella di Via Eleonora Duse. Parliamo del territorio più vasto di Palermo da un punto di vista geografico, tra l'altro tagliato il nord di Palermo, per capirci, insomma la sua trasferra a cavallo, la sua trasferra a cavallo, la sua trasferra a cavallo, ma anche Mondello, Arenella, è un territorio molto vasto tagliato in due dalla riserva di Capogallo, quindi è un territorio che risente anche di collegamenti di trasporto pubblico non proprio diciamo puntuali e regolari, ecco, quindi diventa complicato per chi non ha un mezzo spostarsi all'interno di questi luoghi. Abbiamo raccontato appunto le difficoltà vissute da alcuni presidenti. Ecco, allora seguiamo questo contributo video e poi ne parliamo con l'assessore Falzone. Era l'ultimo avamposto dello Stato, questa decisione è scelerata perché sta, causerà molti problemi, specialmente agli anziani e alle persone che non hanno un'automobile perché raggiungere Via Eleonora Dusa è quasi impossibile in autobus, si scende in un posto e bisogna fare un tratto che è una strada senza marciapiedi, pericolosissimo, specialmente per gli anziani, quindi questa amministrazione che ha deciso la sua chiusura deve rimediare e deve trovare il modo di ovviare, di trovare una nuova sede perché il territorio non può essere penalizzato in questo modo. Quindi il comitato che è stato, che si è costituito, noi siamo contenti che i cittadini comincino a reagire, è stato costituito appunto per questo motivo, per dare un segnale al sindaco, all'assessore Falzone, affinché si trovi una soluzione per il territorio, non possiamo restare abbandonati. era l'ultimo avamposto. Possiamo di entrare in studio, ecco, assessore Falzone, questo comitato si è costituito dopo la chiusura di questa postazione, ma ci spieghi, perché avete deciso di chiudere quella postazione e poi cosa avete intenzione di fare subito dopo? Allora, per precisione devo dire che questa è una postazione che ho trovato, naturalmente andando a studiare un po' di postazioni al Comune di Palermo, ed è una postazione che erroneamente viene detto che è una postazione baluardo, cioè un punto dello Stato che viene chiusa, che quindi viene a creare documento alla cittadinanza. Questo sarebbe stato vero se fosse stata in funzione. Precisamente questa postazione è chiusa da oltre quasi tre anni, è una postazione che era stata, diciamo, a siglioso poi all'inizio, chiusa, aperta, part-time, comunque poi alla fine anche per carenza del personale era stata la passata amministrazione chiusa e quindi io ho trovato una situazione in cui avevamo un locale per cui il Comune pagava 18 mila euro di indennità di occupazione neanche allocazione, chiusa da tempo e quindi non forniva al cittadino nessuna... Quindi di fatto la postazione era sulla carta, si pagava ma non funzionava. Era soltanto un costo per la città. Pagare 18 mila euro l'anno oggettivamente non lo si fa, non è giustificabile dal punto di vista di chi amministra. Il personale che c'era, era poco, è stato dirottato in via Duse per poter utilizzarlo al meglio. Come diciamo, abbiamo detto all'inizio, la carenza di personale, di specializzazione è certamente il motivo per cui stiamo cercando di riorganizzare. E chiudere una postazione che di fatto da tre anni non funzionava, non ritengo che abbia fatto nessuna cosa più... Però c'è un tema che le pongo almeno stando ad ascoltare il Comitato, ovvero che si viene a creare un problema vista la distanza, la difficoltà di raggiungere la postazione. C'è una prospettiva alla possibilità di risolvere questo problema del cittadino? Noi stiamo cercando di riorganizzare tutto quanto, partendo dal concetto che appunto il personale è quello che è, che non si forma dall'oggi al domani. Che i costi sono, anche dico anche un'altra cosa, un'altra cosa che è stato anche oggetto di discussione al Consiglio della settima circoscrizione a cui anche chi ha intervenuto prima ha partecipato. Il tutto parte da una nota della Corte dei Conti che individua nei costi dei fitti del Comune uno degli elementi su cui intervenire. La passata amministrazione aveva individuato quella postazione come una postazione da chiudere perché appunto era una postazione che, motivi che non sono, inattiva, comunque non forniva i servizi che abbia dovuto fornire. Questo naturalmente è chiaro che è una perdita per il territorio, ma quando la Corte dei Conti individua i fitti come uno dei documenti del bilancio che deve essere risanato quando da tre anni viene chiusa e noi paghiamo soltanto 18.000 euro una struttura inutilizzata, è chiaro che naturalmente in una riorganizzazione quella postazione ahimè dovrà essere chiusa cosa avrebbe dovuto fare anche prima. Però naturalmente prendo atto di quello che dice chi è intervenuto, cioè nel senso che si deve cercare di riorganizzare e fornire al territorio lì dove è possibile un servizio che è chiaro. Quindi dico questa è la domanda che pensate a risolvere il problema del territorio. L'idea che potrebbe essere anche attuabile stiamo studiando anche con il collega Mineo una soluzione è quella di creare degli hub dislocati al centro a destra e a destra della città per cercare di fornire un servizio centralizzato se possiamo così dire utile anche dal punto di vista dei collegamenti e d'altro per cercare di dare la possibilità al cittadino di avere i servizi che giustamente sono delle postazioni che siano raggiungibili mettendo in assi postamenti da con questa è la situazione in cui come dicevo spendevamo 18 mila euro l'anno per una struttura che di fatto era soltanto un costo Pietro prego altri argomenti allora prima di passare al decentramento che poi tra l'altro recentemente è stato approvato proprio un regolamento in tal senso in consiglio comunale mi volevo focalizzare su due uffici che hanno carenze particolari uno è l'ufficio tributi che è stato oggetto tratto di una diatriba interna dopo questa diciamo determina dirigenziale della dottoressa mandala diciamo che si è lamentato un po' di quelli che sono diciamo degli interventi dell'URF e di alcuni consiglieri comunali e l'altro è l'ufficio dello Stato Civile che è soprattutto quello che riguarda i servizi cimiteriali sono due del principale lacune vogliono capire cosa si stava facendo in tal senso per cercare di prendere queste due situazioni che sono abbastanza critiche tra l'altro quella dell'ufficio tributi anche legata a più irrequilibrio inevitabilmente da parte dell'amministrazione una tensione particolare per quanto riguarda l'ufficio tributi io sto cercando in tutti i modi di agevolare l'ufficio tributi nella ricerca di personale a poter destinare probabilmente di qua qualcuno è stato trasferito recentemente qualcun altro lo sarà a breve mi auguro per cercare di aumentare perché naturalmente rafforzare questa struttura la polemica che è sorta anche sui giornali per quanto riguarda il consiglio comunale io devo dire che condivido i problemi che ha sollevato la dottoressa Mandala di contro così come ho risposto anche sugli organi di stampa il consiglio comunale ha delle prerogative ha un regolamento ha un regolamento che prevede che si debba fornire ai gruppi il personale e che questi gruppi sono su base fiduciaria molte di queste persone qua sono lì da anni da tempo memorabile e quindi hanno creato ormai un sistema con i consiglieri di collaborazione che non possono naturalmente oggi poi a parte questo il regolamento per me è legge e va rispettato pur non di meno naturalmente le esigenze della dottoressa Mandala e del rifugio tributo non personalizzo perché giustamente non è lei fa parla come dirigente del servizio che ha una responsabilità che quindi deve a cui deve fare fronte è uno dei primi se non il primo impegno che io ho mi è stato dato al sindaco per poter potenziare quell'ufficio perché è chiaro che noi siamo in una situazione con un comune con un riequilibrio da effettuare e quindi è chiaro che le tasse le dobbiamo pagare tutti quanti e dobbiamo cercare di evitare che l'evasione venga diminuita da questo punto di vista che tutti quanti paghino quello che devono pagare quindi questo è il spostiamoci sulla questione stato civile e servizi cimiteriali che è un altro che è un altro ma servizi cimiteriali un fatto è il problema del cimitero con le casse parliamo di un punto di vista burocratico un punto di vista burocratico abbiamo rischiato in alcuni momenti che addirittura non si potessero seppellire morti perché non c'era nessuno che fisicamente facesse le pratiche anche dopo la chiusura del palazzo Barone che è stato il palazzo Barone che è stato trasportato poi allo stato civile e poi ora lo stato civile è stato trasportato in via Storino e tutto il resto quindi stiamo cercando di trovare una collocazione nel tentativo nella speranza anche di poter riattivare palazzo Barone perché stanno facendo delle verifiche di carattere tecnico se è possibile riutilizzare quello stabile il problema poi naturalmente lì lavorano ufficiali di stato civile c'è anche il sabato una turnazione quindi diciamo da questo punto di vista ecco io mi preoccuperei più del ed è una cosa un'attività che il comune che il sindaco Orlando ha preso devo dire con attenzione insieme al collega Orlando della risoluzione del problema delle bare della sepoltura dignitosa che ciascuno di noi deve assicurare a chi oggi non è più con noi e questo è un problema che stiamo cercando di risolvere dal punto di vista dello stato civile dell'aspetto stato civile stiamo potenziando gli uffici stiamo cercando naturalmente di venire in conto a quelle che sono le esigenze però devo dire che rispetto ad altri problemi ecco questo diciamo non dico che è minore ma è perché è importante però c'è una turnazione anche il sabato gli uffici sono aperti c'è qualcuno che è reperibile quindi da questo punto di vista parlando restiamo un attimo al stato civile perché c'è un altro dei grandi temi e di cui oltretutto si parlava anche prima di andare in onda è stato anche al centro dei servizi nazionali senza andare lontano se riesce alla notizia c'è il problema delle carte di identità a Palermo anche fare una carta di identità è diventato complesso cioè ci sono prenotazioni a mesi e mesi di distanza quando si riuscirà ad uscire da questi impasse e forse diventerà nuovamente normale andare a richiedere un rinnovo di carte di identità perché è necessario perché il documento è necessario come voi sapete con la pandemia noi abbiamo ritardato e abbiamo dato lo stato e dato la possibilità di prorogare la scadenza delle carte di identità questo normalmente ha creato ora al post pandemia se possiamo dire di essere usciti alla pandemia un arretro di carte da rinnovare perché molti non hanno rinnovato ora naturalmente tutti quanti devono rinnovare tra altre cose la nuova carta di identità è quella con la CIE che è un codice particolare la carta elettronica che è diversa da quella che c'era prima allora lì abbiamo una situazione in cui abbiamo già dato a disposizione perché il sindaco alla Galla è uno dei motivi anche di campagna elettorale è quella di eliminare le prenotazioni le prenotazioni verranno eliminate dal 9 di gennaio e quindi si potrà perdoni l'assessore regarsi in un ufficio come si faceva una volta per andare a fare un rinnovare normalmente ci si petta il turno e si fa la carta di identità naturalmente cosa succede da qui ad allora io mi sono preoccupato di capire quanti erano le persone prenotate da qui al 9 di gennaio che avevano richiesto la prenotazione per fare la carta di identità bene il numero è 9200 persone 9200 persone che sono in attesa voglio sfatare una leggenda metropolitana perché molti mi dicevano ma ci vogliono 90 giorni più di 90 giorni per fare una carta di identità eccetera allora la prenotazione veniva effettuata in questo modo si sceglieva una postazione va bene se tu sceglievi Via Le Lazio allora avevi che so 40-50 giorni di attesa Brancaccio ad esempio era 90 giorni di attesa Bocca di Falco 37 giorni cosa voglio dire a secondo tutti quanti uno è portato ad andare vicino casa a fare la carta di identità ma la carta di identità può essere emessa da qualsiasi postazione non è necessariamente quella vicino casa e allora abbiamo cercato siamo riusciti anche grazie al segretario generale che mi ha dato una mano a aprire nei mesi di novembre e dicembre per una giornata pomeriggio di una settimanale la postazione per un ulteriore giorno dove è possibile andare in tutte le postazioni quasi tutte hanno un'apertura in più pomeriggio dove è possibile andare senza prenotazione chi va a fare la carta di identità senza prenotazione in una di quelle postazioni ed è prenotato lo può fare normalmente questo prevede e dà la possibilità a chi lo fa di liberare il posto la mattina oppure il giorno in cui aveva prenotato adesso a gennaio oggi facciamo la carta di identità però il posto che aveva prenotato a gennaio lo rendo libero per qualcun altro quindi ho creato la possibilità di aumentare il flusso e il numero delle carte di identità mediamente ogni operatore ne fa circa 20 in due ore e mezza di apertura quindi diciamo se moltiplicate rispetto al costo stiamo dando un grosso contributo allo smoltimento di questo arretro allora ci sono tantissimi argomenti per noi ma il tempo è già andato via una cosa velocissima da domandare all'assessore decentramento professionello regolamento cosa cambia? stiamo lavorando nel cercare di potenziare le circoscrizioni cercare di decentrare naturalmente forse a fine anno faremo qualche cosa per il decentramento a livello culturale anche a livello sfruttando anche il Natale quindi stiamo cercando naturalmente di spostare quelle attività che possono essere spostate al decentramento i consigli circoscrizionali sono stati eletti come tutti quanti i consigli comunali e quindi hanno naturalmente il diritto il dovere di amministrare e dobbiamo dare a loro anche la possibilità di farlo con degli strumenti ci stiamo lavorando bene grazie all'assessore con noi sono certo che lo chiameremo nuovamente per affrontare tanti altri argomenti per vedere come si procede da questo punto di vista perché sono tante cose da fare grazie a Pietro Minardi grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questo nuovo appuntamento e vi rinnovo per il prossimo appuntamento con Talk Sicilia continueremo a parlare dei tanti problemi di Palermo ma non soltanto di tutta la regione grazie ancora arrivederci grazie